Ora parliamo di cinema, è tratto da una storia vera, il film Il Diario di Carmela, opera prima del regista Vincenzo Cagliazzo. Ce ne parla Cecilia Donadio. La bellezza di Carmela non è solo quella fisica, incarnata dalla fresca sensualità dell'esordiente Maria Sole Di Maio. Carmela è un'anima bella, che ama lo studio e lo scrivere, che ascolta il jazz e vorrebbe una vita da 15enne normale. L'essere nata in una periferia degradata, in una famiglia che è organica agli ambienti criminali, dove lo spaccio di droga e lavoro quotidiano, ed è la madre ad instradarla verso l'illegalità, la imprigiona insieme ai suoi sogni. Il Diario di Carmela, opera prima del regista Vincenzo Cagliazzo, tratto liberamente da una storia vera, arriva da venerdì nelle sale, preceduto domani da un'anteprima al Cinema Metropolitan di Napoli. Girato nel quartiere Piano Napoli di Bosco Reale, è una produzione indipendente, firmata dalla EWC 2001, un'impresa culturale che mira a realizzare opere a tematica sociale, con particolare attenzione alla devianza giovanile. Con la storia dell'innocenza perduta di Carmela, racconta il disagio, spesso irreparabile, di tanti ragazzi ai quali non viene data una seconda possibilità.